Caro Bollette, Tamayo, pubblicato bando bonus energia da 150 milioni per le imprese siciliane. Si allarga la platea di potenziali beneficiari del bonus energia Sicilia, la misura approvata dal governo regionale proposta dall'assassonato alle attività produttive per andare incontro all'aumento delle spese per le imprese dopo il rincaro dei costi dell'energia. La norma ha subito un'ulteriore modifica in giunto e adesso, oltre ai settori individuati, sarà estesa anche al comparto della sanità e assistenza sociale residenziale e non residenziale. All'interno del settore ricadono infatti attività economiche particolarmente esposte agli effetti negativi del caro energia, fra cui le residenze sanitarie assistite e gli asili nido. Aiuteremo le imprese siciliane ad affrontare i rincari dei costi dell'energia causati dalla crisi internazionale a seguito del conflitto in Ucraina, afferma l'assessore alle attività produttive Edi Tamayo. Aumenti che stanno mettendo a rischio la sopravvivenza di molte aziende siciliane. Per questa ragione ci siamo attivati per erogare al più presto il bonus energia grazie ai 150 milioni che il governo Schifani ha affidato al Dipartimento delle Attività Produttive per aiutare gli imprenditori della nostra isola a fronteggiare il caro bollette. Pubblicato l'avviso per fare domande di partecipazione, le aziende avranno tempo fino a marzo. Il bonus darà respiro alle realtà aziendali nei vari comparti produttivi e alle tante famiglie che vi ruotano attorno.